Il giovanissimo Venanzio e la grande esperienza di Strambelli bastano alla Fidelis per battere, la Gelbison tra le mura amiche, scollinare la quota di 60 punti in campionato e chiudere con un successo una stagione positiva dopo la retrocessione dalla Serie C dello scorso anno. Ora ci saranno i play-off, poco utili in realtà ai fini di un ripescaggio, ma importanti per concludere nel minore modo possibile una stagione in cui forse è mancata proprio la continuità delle ultime 12 partite per competere per il primo posto. Vittoria che ha comunque molti significati, vedere all'opera calciatori meno impiegati in stagione come Tavoni, a cui Scaringella affida dal primo minuto l'esordio stagionale e le chiavi della difesa a sinistra, mettere minuti nelle gambe per i rientranti Feole e Giambuzzi, ritrovare sorrisi e abbracci con Strambelli e Silvestri, reintegrati in rosa in settimana. I due gol di oggi regalano alla Fidelis anche il miglior attacco del girone con 58 gol segnati, staccato il Nardò a 53, dall'altro lato una Gelbison già salva in campo con tante riserve, deve rinunciare a Stefano Manzo, ex e squalificato, ma lascia in panchina anche Fontana e Bubas in campo a guidare l'attacco nel 3-5-2, ci sono Croce e Dellino. Pronti via e il classe 2005 Venanzio fa tutto bene e lascia partire un sinistro chirurgico che si infila alle spalle di Cervellera. Primo gol per il giovanissimo esterno tra i senior e Fidelis che continua a veleggiare nella metà campo della Gelbison sino all'alba del ventesimo minuto, quando arriva vicinissimo al 2-0 e Giambuzzi a crossare preciso in aria da sinistra, ma proprio Venanzio tutto solo si fa respingere il tiro da Cervellera. La squadra di Erra però non ci sta e alza decisamente il baricentro, sfruttando anche un po' di rilassamento della squadra di casa. Gagliardi ci prova dal limite, palla bloccata da Baglietti in due tempi, si divone il pareggio alla mezz'ora, l'ex Antonio Croce partito sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Baglietti che gli chiude bene lo specchio in uscita. Le Pace sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa sul fondo, ancora di testa, questa volta Croce la alza troppo su assist di Sicurella. La Fidelis si fa rivedere dalle parti di Cervellera grazie al tocco intelligente di Bottalico per la corrente Giambuzzi, tiro di prima intenzione, palla alta. Gagliardi dall'altro lato nel finale di tempo lavora un buon pallone nei pressi di Baglietti, scarico per Casiello, tiro alto. Stessi 22 in campo a inizio ripresa ed è Sal subito a provarci con un tiro da buona posizione, alto anche in questo caso. In campo dopo 7 minuti c'è il ritorno di Nicola Strambelli e il numero 10 Biancazzurro ci mette invece 2 minuti per procurarsi un calcio di rigore de pace. In ritardo lo tocca in aria ed è penalty per il direttore di gara. Dal dischetto Strambelli fa 2-0 con l'ottavo gol in campionato, decimo stagionale e chiude virtualmente il match. Tanti cambi anche nelle fila della Gelbi sono decisamente a trazione anteriore. È ancora Croce però a sferare il gol con un colpo di testa su assist di Ferrante che si accomoda di un soffio sul fondo. Il nuovo entrato Barone prova un pallonetto su Baglietti in uscita ma non inquadra lo specchio. Strambelli alla mezz'ora con l'esterno illumina per l'inserimento con i tempi giusti di Venanzio. Tocco ravvicinato e Cervellera salva tutto. Ancora Strambelli serve al centro un pallone che Giambuzzi colpisce di testa palla che si stampa sull'incrocio dei pali della porta di Cervellera. Ultimi minuti caratterizzati dal gran caldo e dalle due squadre completamente spaccate. Casiello ci prova dal limite, palla alta, poi è entrato Varsi a sfiorare per due volte il tris, prima con un tiro che finisce di poco sul fondo e poi con un tocco al volo ciccato a pochi passi da Cervellera. Palla anche in questo caso a lato. Strambelli si mette in proprio calcinaria, palla che non scende abbastanza, poi in pieno recupero la traversa piena colpita da Gagliardi a Baglietti battuto ma prima del triplice fischio c'è gloria anche per lo stesso Gagliardi con un'azione simile che batte all'angolino Baglietti. Finisce così 2-1 per la Fidelis che trova la diciassettesima vittoria in campionato, l'ottava nella gestione di Giuseppe Scaringella in casa, solo l'Altamura ha fatto meglio della Fidelis. Sono 61 i punti conquistati alla fine della stagione regolare per la formazione del presidente di Benedetto che ora si presenterà ai play-off come mina vagante del raggruppamento. Sfida di semifinale a Nardò domenica prossima.